Barzelletta didattica di Giuseppe Castiglia per sito esaurito. Il primo giorno di scuola. Bene ragazzi, allora adesso ci conosceremo un po'. Tu, come ti chiami? Fosse Bella. Quanti anni hai? 17. Ah, 17 anni e sei ancora in terza elementare. E come mai ci hai messo tutto questo tempo? A me mi piace che la cosa me l'embaro bene. Tuo padre, che mestiere fa? Mio padre fa... di giorno il muratore e la notte fa lampadine. Di giorno fa il muratore e la notte fa lampadine. Ma che significa, scusa? Che di giorno fa il muratore e la notte fa il lampadine. Sì, ma non capisco... Eh, professore, manco io lo capisco. Io so soltanto che la sera io sento dalla mia stanza il mio padre che ci dice a mia madre Maria, spegne questa lampadina che ne facciamo un altro. E tua madre invece che mestiere fa? Mia madre fa la sostituta. Non ho capito, scusa, puoi ripetere? Mia madre fa la sostituta. Sostituta? Ma che mestiere è? Professore, presenti quella con le cose a rete? Con la bossetta che la girano nelle mani? Che c'hanno il copertone brumato con fuoco? Ah, e ho capito, ma quella non è la sostituta. Quella è la prostituta. No, no, la prostituta è il mio solo. Ma quando il mio solo non ci va, la sostituisce. No, no, la prostituta è il mio solo.